Giovedì sera, nell'ambito dell'esposizione Arte per tre generazioni, in corso presso la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone, l'attrice Carla Manzon ha accompagnato il pubblico in una visita guidata, originale e coinvolgente, dando voce agli artisti delle opere esposte. Questa sera saranno letture, testimonianze e percorsi sull'arte, ma sono soprattutto le parole degli artisti che verranno fuori, le testimonianze, le biografie, attraverso due o tre autoritratti si parlerà di questi artisti pordenonesi, non solo, friulani, veramente molto interessanti. Una cosa mi ha commosso molto, una lettera di Pasolini a Zuccheri, vedere la scrittura quasi da infantile di Pasolini è stato veramente toccante. Abbiamo voluto proporre delle serate diverse per vivere il museo anche attraverso il teatro, ci siamo rivolti all'estero di Carla Manzon affinché dia vita sia a una dama di Casa Riccheri per introdurre visitatori alla storia del Cinquecento, ai personaggi e alla vita dell'epoca, sia in Galleria d'Arte Moderna qui al parco per dar voce invece alla vita degli artisti, ai loro pensieri, alle loro opere, attraverso la lettura e l'interpretazione appunto di brani della loro storia. Il prossimo appuntamento con vite d'artista giovedì 23 agosto alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone.